Cosa fare? Dove andare? Ma soprattutto cosa bere in Trentino? Lo scopriremo insieme dopo la sigla. Il territorio del Trentino è facilmente riconoscibile perché corrisponde alla provincia autonoma di Trento, in Trentino Alto Adige. Può vantare sul suo territorio ben due patrimoni unesco, che sono ovviamente le Dolomiti e anche i sitoli, ma raffitticoli preistorici di Molina e di Letro. Tra le prime tappe non può mancare il capoluogo del Trentino. Trento, una città piccola e graziosa, colorata e caratteristica, ricca di storia, arte e cultura. Tra i vicoletti nel suo centro storico ammirerete un mix tra mura medievali ed edifici affrescati, come le case Cazzuffiarella, ma anche edifici rinascimentali che alternano colori vivaci. Immancabile la bellissima piazza Duomo, con l'imponente fontana del Nettuno circondata dal maestoso Duomo di San Virgilio, ma anche il Castello del Buon Consiglio, che fu la sede dei principi vescovi. Il Sass, Museo sotterraneo che conserva i resti della Trento romana, il Musee, Museo delle scienze naturali, e il Maat, Museo di arte moderna e contemporanea, che si compone di due sedi, a Trento e a Rovereto, e che conserva opere di artisti come Andy Warhol. Folgaria, Lavarone e Luserna sono tre paesini di montagna molto caratteristici. A poca distanza tra loro visitarli tutti vuol dire fare un viaggio nel passato, e in particolar modo immergersi nel periodo della Prima Guerra Mondiale, tra resti di fortezza e trincee ubicati su questi alti piani. Il Trentino Alto Adige, infatti, fu uno dei principali luoghi di combattimento, ecco perché ancora oggi conserva questi resti. Inoltre, Folgaria, Lavarone e Luserna sono mete ideali per trascorrere la settimana bianca, l'insegna dello sci e di altri sport invernali, oltre ad ospitare anch'esse i mercatini di Natale, in un'atmosfera invernale molto suggestiva, arricchita dalle tipiche abitazioni di montagna, fatte in legno e muri dai colori più vivaci. Rovereto è la terza città della regione per importanza e grandezza, altro luogo storico e di cultura. Fondato nel Medioevo, oggi rimangono di quell'epoca stradine strette e piazzette, ma è possibile ammirare anche i bellissimi palazzi settecenteschi, che le conferiscono un'atmosfera quasi veneziana. Tra le attrattive impartibili citiamo la chiesa di San Marco, Casa de Pero e l'importante Castello, ma anche il Museo Civico e, come già accennato, il Marte. Madonna di Campiglio fa da padrone a tutte le località scistiche di zona. Non si tratta infatti di una valle, bensì di un paese di appena 800 abitanti, situato a 1.500 metri di quota tra i Doromiti di Brenta e di Giaccià della D'Amelio, dove sciare è un vero spettacolo per gli occhi. Conta ben 156 chilometri di piste, di diversi livelli di difficoltà e tra le quali si trovano fiste, dove si svolge ogni tipo di gara alpina, dallo Slalom dalla discesa allo Slalom gigante, eccetera eccetera, e le paranormiche Graffer e Spinale direttissima. Il Trentino è anche rinomato per i suoi centri termali, naturali e rilassanti. Un imperdibile sito termale si trova a Levico Terme, come infatti ci indica il nome stesso. È situato in un contesto naturale pazzesco, tra le vette della cantina montuosa Lago Rai. Inoltre a Levico si trova un piccolo ginello incastrato tra la natura, un lago balneabile, detentore del riconoscimento bandiera blu d'Europa, che si estende tra la parte bassa del paese e i boschi circostanti. Anche il centro storico di Levico Terme è molto caratteristico, è tutto da scoprire con la sua impronta austriaca. Lasciatevi incantare dal Parco degli Asburgo e dalla residenza estiva della principessa Sissi. La Val di Nonna è una delle valli principali del Trentino, nota soprattutto per la sua vasta produzione di ottime mele. Il territorio si articola su una superficie di 635 chilometri quadri, ad un'altezza variabile tra i 268 e i 2999 metri, offrendo bellissimi panorami e paesaggi naturali mozzafiato. Tra le varie attrazioni della Val di Nonna vi suggerisco il canyon Rio Sass, un profondo orrido scavato dal fiume che taglia in due il centro dell'altra Val di Nonna, percolibere su passarelle e scalette, ammirando giochi di luce, stalattiti e stalagmiti. Ma le attività in Val di Nonna sono anche altre. Ad esempio si possono trascorrere giornate sui suoi bellissimi laghi, quali il lago di Santa Giustina e il lago di Toveri, oppure partecipare ad un tour gastronomico alla scoperta delle coltivazioni di mele con interessanti passeggiate attraverso i meletti. Tra i tanti castelli invece presenti in tutta la regione, voglio consigliarvi una visita al Castel Beseno. Nel comune di Besenello, tra Trento e Rovereto, questa è la fortezza più grande del Trentino. È stata costruita sulla sommità di una collina e arrivando da lontano si notano subito gli imponenti bastioni cinquecenteschi, i quali furono aggiunti al castello per rinforzarlo in previsione di assiedi con anni da fuoco. Entrando e iniziando a visitarlo avrete il piacere, nell'ampio cortile delle sue stanze, di toccare con mano antichi giochi di corte, scudi, armature, elmi, spade, utensili e attrezzi da lavoro, oltre ad ammirare i bellissimi affreschi. Infine percorrere il sistema di camminamenti lungo le mura e godersi la suggestiva vista panoramica sulle verdeggianti valle. Riva del Garda è la località situata sul breve tratto del lago di Garda appartenente al Trentino. Da sempre il lago è una rinomata attrazione naturale dove è possibile visitare tante graziose località. Tra queste anche Riva del Garda che offre diverse opzioni per visitatori come il mini crociere sul lago attraccando in paesini vicini quale linfano e torbo ad esempio oppure tour enogastronomici tra vignetti e ulivetti dei quali la zona è molto ricca che termina solitamente con degustazioni dei prodotti locali. La Val di Fiemme e la Val di Fassa non dovrebbero mancare fra le tappe da visitare in Trentino. Questi due valli sono confinanti tra loro, entrambe di modeste dimensioni, ottime per trascorrervi la settimana bianca grazie anche a oltre ben 300 km di piste tra il comprensorio sciistico Val di Fiemme o Bergene e il comprensorio Val di Fassa Carezza. Entrambe le vali però si prestano bene anche a vacanze estive per via delle opportunità di trekking che offrono e la pista ciclabile di 50 km che collega l'una all'altra attraversando i caratteristici paesini di Alba di Canazzei, Campitello di Fassa, Fontazzo, Campestrin, Mazzin, Per di Fassa, Pozza di Fassa, Soraga, Moena, Predazzo e Molina di Fiemme. In estate non è da lasciarsi sfuggire il Paglio del Brenta, una meravigliosa festa a tema medievale dove si esibiscono giocoglieri, arcieri e sbandieratori proprio per simulare un autentico evento di quel tempo. Culmine della festa è la zatterata sul Brenta, l'evento che si tiene ogni anno durante l'ultima settimana di agosto. In inverno sono ovviamente imperdibili i mercatini di Natale, diffusi in tutta la regione a partire dalle città principali fino alle città secondarie e vari paesini. Da fine novembre all'inizio di gennaio vengono allestite una serie di casette in legno dall'offerta ampia e variegata, dall'abbigliamento all'artigianato di ogni tipo fino alla gastronomia, allettate da eventi e musica. Ci si immerge nella magica atmosfera natalizia tra oggetti legati alle festività e profumi tipici del Natale, quali quello del vin brulee, del bombardino e della cioccolata calda, assaporando pietanze tipiche come i canederli, i tortelli di patate e l'immancabile strudel. Elisabetta Foradori è una delle più influenti e determinanti donne del vino in Italia, soprannominata la signora del teroldego. Uno dei suoi maggiori meriti è stato quello di aver contribuito alla rivalutazione del teroldego, appunto, che negli ultimi anni ha saputo imporsi nel panorama vinico italiano con grande autorevolezza, assieme ad altri vitigni autoctoni trentini come la Nusiola e il Manzoni Bianco. Elisabetta Foradori è divenuta vignaiola nel 1984, quando si è trovata a gestire i vigneti di famiglia dopo la scomparsa del padre. In tutti questi anni Elisabetta ha saputo portare ai massimi livelli il connubio tra passione e competenza, diventando un punto di riferimento imprescindibile per molti vignaioli trentini e soprattutto per gli amanti del buon bere. Il Trentino è una regione assolutamente vocata per la produzione di vini rossi pregiati e per bianchi di carattere. Le potenzialità del territorio vengono sfruttate appieno dalla cantina Foradori, così da regalarci bottiglie che rispecchiano la qualità e la pazienza del lavoro in vigna e in cantina. Come mi definirei? Una custode della trentina, dice di sé Elisabetta Foradori. Le vigne sono infatti coltivate secondo i principi della biodinamica, con sistemi ad alta densità e a spalliera. In cantina si privilegiano le vinificazioni in anfora, secondo una tradizione molto antica e non si usano gli eliti selezionati. La filosofia produttiva è perfettamente riassunta in questa frase di Elisabetta. Cogliete le sottili differenze esistenti in natura, ascoltandola per preservare la sincerità del carattere dell'uva nell'espressione del suo luogo d'origine. Nascono così dei vini che definirei artistici, espressivi e territoriali. I vini bianchi sono ricchi e complessi. I Teroldego, tra i quali spicca per complessità e intensità il granato, sono tutti scuri, saporiti e profondi, autentiche espressioni del territorio d'origine. Oggi al temone della cantina troviamo il figlio Emilio, che avvalentosi del costante supporto di Elisabetta, prosegue dritto nella realizzazione di vini territoriali e dotati di grande finezza, trasversali e apprezzati sia dagli appassionati di lunga data che dai neofiti. Il manzoni bianco Fontana Santa di Foradori è uno dei grandi bianchi italiani. Fusione chirurgica tra ampiezza aromatica e raffinata salinità. Il vino Fontana Santa è ottenuto da uve di incrocio manzoni in purezza, provenienti dall'omone. Vigna Fontana Santana, contraddistinta i suoli di matrice calcareo-argillosa. In vigna, come già accennato, si seguono i precetti della biodinamica, utilizzando solo preparati naturali, oltre a dosi che definirei omeopatiche di rame e zolfo. Mentre in cantina si procede con fermentazione alcolica spontanea, in vasche di cemento e macerazione sulle bucce di circa una settimana. Il liquido poi affina per 12 mesi in botti di acacia prima della messa in bottiglia, senza subire chiarifiche e filtrazioni. Prima del consueto assaggio vi leggo velocemente una scheda tecnica del vino. Il Fontana Santa della Cantina Foradori è un vino bianco denominazione Vignetti delle Dolomiti IGT. I vitigni utilizzati sono Incrocio Manzoni al 100%, il titolo alcolometrico è del 12%, il formato della bottiglia in degustazione è di 75 centilitri e la temperatura di servizio consigliata per questo vino oscilia tra gli 8 e 10 centili. Il vino si presenta in una veste cristallina di uno straordinario giallo dorato, di una bellezza e di un'intensità con pochi uguali e nel mio bicchiere direi che è consistente. Passiamo alla successiva analisi olfattiva. Il vino è assolutamente intenso, complesso e fine. Le note che subito mi saltano al naso sono quelle fruttate, quelle floreali, quelle minerali, una bellissima sferazzata minerale. Per quanto riguarda la frutta una sferazzata agrumata, decisa, tesa, quasi acida al naso, l'acidità dell'agrume riportata, è una fragranza anche questo profumo, incredibile. Aromi di cedro, di bergamotto, di pompelmo, bei agrumi vibranti, una bella sensazione anche di mela verde, quasi di acido malico, bella tesa, poi sensazioni floreali invece molto più calde, queste molto più morbide, la ginestra, una acacia anche molto profumata, fiori gialli, fiori bianchi, una bellissima mineralità, una mineralità quasi marina, iodata, anche questa che mi fa pensare a un'ottima acidità che avrò in bocca, un'ottima salinità che mi ritroverò in bocca. Una delicata sensazione quasi di vaniglia, una vaniglia molto dolce, una sensazione anche quasi di crema pasticcera, di una banana, non so come farvi passare questa nota un po' dolce, un po' grassa, quasi la caramella mou, ecco, per farvi capire più o meno questa sfumatura. È un vino sicuramente di una finezza assoluta e un vino di una rara, di un raro equilibrio nella complessità dei profumi. Vediamo quanto abbiamo sentito al naso se possiamo anche ritrovarlo in bocca. Il vino è sicuramente secco, è sicuramente caldo, una bella nota pseudocalorica, è un vino morbido per essere un vino bianco, è un vino assolutamente fresco ed è un vino assolutamente sapido. Protenderei un po' di più per la sapidità rispetto alla freschezza, ma è proprio una virgola, è anche molto bilanciata. Questa, queste due forze nel vino sono molto bilanciate. Ritrovo tutti i profumi che ho trovato al naso li ritrovo in bocca, li ritrovo arricchiti, c'è un bellissimo finale a mandorlato che lascia la bocca quasi borderline sull'amaro, pulisce via quella morbidezza che si ha all'impatto in bocca, perché il vino come lo mettete in bocca è intenso, così come in bocca, così come al naso. È un vino fine anche in bocca ed è un vino assolutamente persistente. Tutti i profumi retronasali, i gusti che abbiamo in bocca, li ritroviamo anche dopo molti secondi anche che vi sto parlando, li ho ancora tutti. È sicuramente un vino ottimo per accompagnare la cucina di pesce, anche una cucina di carne molto leggera. Mi viene in mente, se volete rimanere nel territorio, i ravioli pusterlesi, come idea, se volete un primo piatto. Un secondo piatto che secondo me sarebbe un abbinamento eccezionale per chi piace è il Lucio Perca, cucinato come volete, il Salmerino, se volete sempre rimanere in Trentino, o se vi volete spingere lontano dai monti e andare al mare, anche i pesci di mare, secondo me oltre a quelli di acqua dolce, in qualsivoglia modo volete, sono ottimi per accompagnare questo vino. Un vino elegante, un vino per fare bella figura, se volete, con gli amici, un vino per passare una serata anche importante e veramente un vino eccezionale. Complimenti come sempre all'ottimo lavoro che fa la cantina Foradori da anni a questa parte. Non sono io quello che ve lo devo venire giustamente a dire, però è una cosa che sottoscrivo e sottolineo. Bene, come sempre non mi resta che ringraziarvi, ricordarvi che se vi è piaciuto di lasciare un mi piace, se non l'avete invece ancora fatto di iscrivervi al canale e di attivare successivamente la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. E come alla fine di ogni video, vi ricordo che l'importante è che siate assetati, ma che soprattutto siate curiosi. Salute!